Oggi notiamo la grande differenza fra la prima lettura tratta dal primo libro del Re e il Vangelo di Matteo. Qui c'è il profeta Elia che annuncia siccità e che si trova veramente molto solo, sembra un povero disperato di cui Dio si prende cura facendo in modo tale che non gli mancasse né pane né carne e poteva attingere l'acqua dal torrente. Dall'altra parte nel Vangelo si parla delle beatitudini, chi sono i beati, chi sono i felici. In fondo Elia non ha fatto vero che non è beato, lui è beato e annuncia la beatitudine agli altri e il Vangelo ci fa capire come si è beati dovunque. Non è che c'è un luogo in cui io posso o non posso essere beato, è un qualcosa che può succedere dovunque, ma si è beati anche comunque, in qualunque modalità. Non è vero che ci sfogliano delle modalità perché si possa essere felici e poi si è beati sempre, non è che ci sono dei tempi in cui sono più felici ed altri no. E poi il Vangelo dalla risposta importante, cosa rende beato? La relazione col Dio che si mostra nel volto di Gesù Cristo. E alla fine l'ultima domanda, chi è il beato? Il beato sei tu, il felice sei tu, che in questo momento stai ascoltando questa parola, che in questo momento ti stai chiedendo cosa ti fa felice e che probabilmente dinanzi a una situazione difficile in cui non capisci il tuo tempo, il tuo luogo, la tua modalità, il tuo cosa, alla fine percepisci che solo Lui e solo questa parola che Lui ti sta donando ti fa veramente beato e felice. Buon amissimo.